Le aliquote fiscali sono molto basse per i miliardari in tutto il mondo. Quello che proponiamo è di introdurre una tassa minima del 2% sul patrimonio dei miliardari a livello globale. Sono circa 3.000 a livello mondiale, ma hanno un patrimonio molto ingente e pagano molto poco, circa 44 miliardi a livello mondiale. Quindi anche se il 2% è un'aliquota molto bassa, si possono generare più di 200 miliardi di dollari in più di gettito erariale all'anno. È stato molto importante nel passato contrastare il segreto bancario, introdurre il sistema di scambio di informazioni. Si è dimostrato in passato anche che è possibile raggiungere un accordo su una tassazione minima congiunta. Ora dobbiamo fare lo stesso per i miliardari a livello globale. Ci sono due strategie. Si cerca di negoziare il miglior accordo a livello internazionale su cui tutti i paesi possono convergere. Questo è quello che è successo con la tassa minima globale ed è una ricetta per raggiungere degli accordi insufficienti. Un altro approccio è che tutti i paesi dovrebbero lavorare in maniera individuale per poi, in un secondo momento, arrivare ad un accordo internazionale. Ritiene che un singolo paese possa procedere a tassare i miliardari. E perché lei pensa che l'azione unilaterale possa stimolare il dibattito internazionale? Sì, io credo che si possa fare. Molti paesi hanno introdotto delle patrimoniali. Se esaminiamo gli errori fatti nel passato, l'errore principale è stato quello di tollerare l'evasione fiscale, il segreto bancario, la mancanza di scambi di informazioni tra le banche, la creazione di paradisi fiscali. Ora è più difficile nascondere i padrimoni grazie agli scambi bancari. Si è iniziati a tassare i ricchi, ma non i super ricchi. I miliardari non hanno pagato tasse in più perché magari c'erano delle esenzioni fiscali per alcuni tipi di società, per alcuni tipi di situazioni, eccetera. E quindi abbiamo avuto in realtà una classe di super protetti. L'Italia, ad esempio, potrebbe dire che se si ha un patrimonio superiore di un miliardo bisogna pagare la patria maniale. È una parte molto piccola della popolazione che può però comportare un gettito erariale molto più elevato. La tax evasion è non un tipo di luogo di natura, è una scelta di politica. Quindi, molto concretamente, quando i milioni di rinforzano a tax haven, a Switzerland, non si è iniziato a taxare. Ma possiamo dire che se qualcuno si è diventato molto ricco in Italia e ora si è iniziato a un paese di tax, l'Italia continua a taxare questa persona per un numero di anni, 5, 10, 15 anni. Io ho un po' di timori perché penso che queste misure unilaterali non sono realmente unilaterali. Per quanto riguarda la tassazione unilaterale delle multinazionali, abbiamo bisogno di lavoro tecnico e di coelaborazione amministrativa. Per quanto riguarda le altre proposte unilaterali, devo dire che sono interessanti, ma il diavolo si nasconde nei dettagli. Una tassa sull'esilio unilaterale, sarebbe difficile applicare tale legge su soggetti che non risiedono nel paese. Cioè, sarebbe bisogno di avere accordi con altri paesi. C'è bisogno sempre di un certo grado di coordinamento internazionale. C'è bisogno però di coraggio da parte dell'Unione Europea. Può essere efficace con 500 miliardari. A dispetto del dettato costituzionale, il sistema fiscale italiano è un sistema profondamente iniquo, regressivo al vertice. I contribuenti che percepiscono redditi più elevati versano, in effetti, secondo recenti studi, aliquote effettive d'imposta molto più basse di quelle che sono versate da contribuenti che hanno redditi più bassi. Per permettere una minore crescita della concentrazione dei patrimoni nel nostro paese, minore disuguaglianza di ricchezza, un'imposta progressiva sui grandi patrimoni potrebbe fare il caso. Se disegnata nel contesto italiano, in modo tale da colpire lo 0,1% dei contribuenti più ricchi, circa 50 mila individui, adulti, potrebbe generare risorse stabili a regime prevedibili e adeguate fino a 16 miliardi di euro.